Paride è stato il primo progetto italiano finanziato dalla Commissione Europea con il Bandom Lei e stamattina a Teramo c'era anche il referente europeo Adrian Bullier dell'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese a fare il punto su quello che viene considerato un modello pilota rispetto ai progetti di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica. Il progetto Paride dal mio punto di vista è quasi finito, poi dal punto di vista del cittadino, secondo me sta cominciando nel senso che sette anni fa ha cominciato la provincia con questo progetto, con 35 comuni a quell'epoca a lavorare per l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Sono stati appreso veramente sette anni e devo ringraziare e anche congratulare la provincia e la Gena che hanno lavorato con i comuni giorno dopo giorno per convincere tutti che questo progetto era giusto. Quanto si risparmia con il progetto Paride? Allora, con questo progetto credo che l'importo di investimento su tutto il territorio è stimato a 25 milioni di euro soltanto sull'efficienza energetica che è già un importo molto alto, con questo consente a fare tra 65 e 75% di risparmio energetico che è veramente enorme. Il progetto Paride è partito nel 2011, lei era assessore all'ambiente della provincia, in pochi allora ci credevano, tanti oggi hanno aderito a questo progetto. Sì, un duro lavoro ma pieno di convinzione da parte mia e dell'allora presidente Catarra nel portare avanti questo progetto, un progetto di area vasta che all'inizio ha visto la condivisione di 35 comuni e poi alla fine tra comuni che sono venuti meno ed altri invece che si sono aggiunti si è chiuso il progetto con 32 municipalità. Oggi ci vede con un risultato importante, con il riconoscimento della Commissione Europea con il progetto Paride tra i più autorevoli in seno di Europa replicabile non solo in Italia ma come dicevo prima anche in Europa e quindi fa della provincia di Teramo e dei comuni un modello assolutamente sostenibile.